salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi faremo più che altro tanti chilometri perché come avrete visto sono due settimane che non andiamo in bici questo significa che probabilmente saremo molto scarichi e dobbiamo rimettere un po di chilometri nelle gambe perciò ci siamo scelti una bella meta le rovine di stazzano cerchiamo di fare il più possibile come al solito su sterrato così non ci annoiamo su strada e niente dai vediamo che esce fuori o 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 No, I don't take s***, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take s***, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate, every word I move, so descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, it's a mess, getting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say in the back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I've never got anyone's help, I had to do it all myself. What? What shit? What? What? I'm sorry, I'm sorry. Grazie. Allora, siamo sulla strada del ritorno. La situazione attuale è che non riesco più a pedalare, che mi fa malissimo il sedere. Forse non sono più abituato, forse non so, alla tanta salita. Speriamo di riuscire a arrivare a casa. Allora, Marco mi ha appena ceduto il suo copritella in memory, quindi ho il suo e sopra ci ho messo pure il mio. Quindi ho due copritella in memory. Che dolore, mamma mia, che dolore, non vedo l'ora di arrivare a casa. Grazie. 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 Grazie.